Il tavolo del confronto da parte del Governo con le opposizioni rimane sempre aperto, ma il Governo ha bisogno anche della massima coesione, delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Europa, per continuare a svolgere il suo lavoro. Il confronto dialettico tra le forze di maggioranza e all'interno delle forze di maggioranza è sicuramente un segno di vitalità e di ricchezza, ma è senz'altro salutare che sia fatto con spirito costruttivo, che non ci faccia disperdere energie, che non ci distraga dagli obiettivi della nostra azione. Io vi assicuro la più forte determinazione nel fornire il giusto contributo critico alle riforme in corso, al processo di rinnovamento che si pronuncia anche delle istituzioni europee. Tra poco ci sarà, si svolgerà la conferenza sul futuro dell'Unione, l'Italia a tutte le carte per incidere, per giocare un ruolo da protagonista. Grazie. Grazie.